Ciao, buongiorno a tutti, ciao Francesco, buongiorno colleghi, spero siate tutti bene, come va? Fantastico, allora io ho saputo che ho voglia di intervistarti con questa nuova maison che è nuova, nuova di secca. Guarda, mi hai presa proprio nel momento in cui stavo uscendo per togliermi la mascherina, qui dalla nostra nuova maison, eccoci qua. Bellissimo, che ci piacerebbe visitarla perché qualche amico mi ha detto anche che dentro questa maison ci sono dei quadri fantastici, me ne fai vedere uno? E poi nella prossima... Molto volentieri. Vai, vai, facci vedere, ecco, come inviato... Ti faccio vedere? Sì, sì, certo, certo. Allora siamo in diretta con Francesco Callori e tutti i nostri colleghi, ecco. Ecco. Allora, questi sono dei quadri d'autore, è una nostra cliente, una nostra affezionatissima cliente, Giulia Mariani, che fa dei lavori spettacolari. Abbiamo organizzato una mostra di vernissage, devo dire, con dei risultati pazzeschi. Ecco, fatto, guarda, tutti in acrilico, ci sono le tavole di legno che, sì, sono bellissimi, eccolo qua. Ci sono le tavole di legno prese dalle spiagge dell'isola d'Elba. Poi non so se si riesce a vedere Francesco dal video, ma ci sono tutte berline, ci sono tutti i svaroschi. Un qualcosa, aspetta, vediamo un po', perché questo io lo adoro. Questo è l'amore. Queste sono le ali e un cuore diviso, vedi? che si abbracciano. È pazzesco, bellissimo. Giuliana... Arte e cultura, arte e cultura. Esatto, nell'intervista, quella che faremo prossimamente, ora ti lascio al tuo lavoro, però la prossima intervista mi piace il parrucchiere, l'arte, l'arte nostra come parrucchieri, ma l'arte anche delle persone che ci circondano. E' certo, certo, bene. Allora Giuliana, mi hai fatto piacere, questa è una diretta estemporanea. Un abbraccio. Un saluto a tutti, devo rindossare la mascherina e a prestissimo. D'accordo, ci vediamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.